Biancaneve, in mezzo ai nani, ha sette cazzi per le mani. Cenerento, incazzata, fa la lesbo con la fata. Babbo Natale, con la renna, ha il pisello che si impegna. La Befana vien di notte, come fanno le mignotte. Porta doni ai più piccini e ai più grandi fa pompini. Se quest'anno vuoi scopare, a otto mici lo devi mandare. La Befana, vecchia Valdracca, si sta scolando sei litri di grappa. Buon Natale. Non male. Adesso la invio a Ezio. Vieni, ti manda, vieni, ti manda. Buon Natale. Buon Natale. Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto? Sei andato a fare la spesa? No Come no? Sei ancora letto? Ma non mi rompe i coglioni Ero sotto la doccia Ma non mi rompe le Guarda sul tavolo, ti ho lasciato la lista della spesa Date una mossa Ma Ezio, cosa hai preso? Cos'è quella roba lì? E' quello che mai hai detto tu? Non è quello che ti ho assegnato Perché mi servono le uova e non ci sono Adesso lì cosa stai facendo? Cosa sto facendo? No, no, dai che adesso faccio io Vai, vai Poi lo sai cosa fare? Vai dalle dittelle e mi prendi le uova che mi servono Qua continuo io C'è il te Ah Ezio c'è il te Mi devi dare primo due uova Secondo Facciamola buona Buongiorno Ezio Buongiorno, ciao Di solito? Sì Allora dimmi un po' cosa fai di bello per Natale? Stiamo in casa Sì? Niente, non è andato da nessuna parte? Sì, troppo Uffa Questo qua proprio che scocciatore mi chiama sempre Ma non lo sa che sono lavorato La gente non ha proprio niente da fare Due euro, guarda Ezio Il resto No, scusami Ma che dievo, eh Ascolta, è pronta? No, ma sei già arrivata? Non è ancora pronta Vieni fra due o tre giorni Vedi, è ancora lì, non l'ho toccata Prego signori Da che cifra partiamo? Mille? Non mi sembra poi un altro tantomeno Giovedì andiamo a prendere i regali Dove vai a prendere? Non lo so Però vieni anche tu, eh Ma perché devo venire anch'io, no? No, vieni anche tu Se prego signori, è una altra offerta No, vieni anche tu No, no, è superta Ce la fai? Nonno, sei impedito? Marco, c'è un computer? No, nonno, questo qui è un tablet Con questo puoi chiamare Puoi mandare i messaggi Puoi anche andare su internet Puoi fare tutto E come faccio a telefonare? Guarda, nonno Qua ci sono anche gli auricolari Questi qui Li attacchi E metti questo vicino all'orecchio Ok, così? E puoi sentire la musica Puoi chiamare E gli altri intorno a te non lo sentono Lo senti solo tu Ascolta, portalo indietro Dai Come portalo indietro? Beh, è il modo di ricevere un regalo Questo Intanto si tiene così E poi almeno così Sarai più moderno Con quell'altro Era vittissimo Con l'altro Si poteva guardare Poi questo qui Ha una memoria grandissima Quindi puoi fare tantissime foto Puoi fare Puoi scaricare i giochi Possiamo chattare finalmente Ma questi tasti Allora qua C'è il tasto di accensione Come anche questo qua Poi qua c'è il volume Il più Il meno Tipo se vuoi ascoltare la tua musica Il tuo buggy Se ti vuoi mettere a ballare Adesso puoi usare questo qui Tu questo lo chiami un telefonino Questo è un battilardo Dai scusa Basta per tracci sopra Bortadella Sono oggetti pericolosi questi Guarda che c'è uno Di Bologna Che è ancora sotto psicofarmaci È andato in depressione Perché si era rotto Guarda che Biotracciattenti a queste cose Scusa E tu credi che io ci chiaspi? Che cosa sono? Un cretino Potrebbe succedere Ma io ho un cervello Ragazzo Ho un cervello Ancora Delle altre Questa Non c'è male Vai avanti Questa qui Allora Scegliene una No no Questo Allora ti metto questa E basta Ciao nonno Ciao Ciao Aspetta però Prima mi devi far vedere Se hai imparato a usare i messaggi Ma non lo uso io Fammi vedere I messaggi Vengono qui Qui Ah messaggi Sì E poi c'è la tastiera Sì Per? Per? Scrivere Per scrivere Bravo nonno Lascia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu che? Dimmelo, tu chi sei? No, dimmi chi sei tu. Ma no, me lo devi dire te chi sei. Dimmi chi sei, allora io ti rispondo, altrimenti non ti rispondo, hai capito? Sei fulvio? Mi dice, chi sei? Ma chi sono io? Ma se mi hai telefonato tu, io dico la gente come a me, sono dei stronzi, ma mi dice a me chi sono, mi hai telefonato tu? Ma ero io. È stato ieri, vero? Ieri, sì. Ero io che ti chiamavo. Oddio, scusami dai, non volevo dirti dello stronzo. Non ti preoccupare, tanto ti ho dato dello stronzo anch'io. Non ti preoccupare, tanto ti ho dato. Ma sono io Maria? Hai due uova? si appunto costerà sui 100 euro capito no è una pomata che si dà nell'ano hai capito e si ammorbidisce quando c'è la penetrazione dai che vi faccio una volta vai in fondo il dito no 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 bella essia ti sei fatto proprio un bel telefono mettermi su whatsapp stai guidando adesso non posso stai guidando è un attimo ma non è un attimo ma perché che ma perché tutte le volte che ti dico dai mo vai ma sei contento ok adesso fai cancelletto 3 1 cancelletto a posto pronto paolo paolo tu franco si sono franco non mi riconosci cosa ti è successo ma mamma mia sto a capire che cosa ho un po di paccio dei dolori vieni qua subito dai sono le 3 e allora vieni subito dai vieni subito dammi mezz'oretta e sono lì vieni subito eh sto arrivando dai ma sei ancora lì dammi mezz'ora il tempo di vestirmi non sono mica rambo non sono sto arrivando si alle 3 di notte vado su cucina ma devi smettere di fare questi scherzi telefonici eh mi hai svegliato le 3 di mattina ti vado a rinunciare per stalking hai capito telefono oi oi pronto chi è il numero privato pronto che sei Silvano chi sei vado io qui pronto pronto sei veramente un gran coglione sei veramente un gran coglione Jeff cosa avete mangiato per Natale? io ho mangiato il cotechino con il purè pronto ma dai sei scemo cos'hai 10 anni pronto? guarda che ho capito chi sei ma se sei scemo nonno sempre con ste pernacchie basta cambia un po' ma ascolta dammi il tuo numero di telefono col cazzo che te lo dò così mi fai di scherzi al telefono una notte ti conosco ciao pronto si vorrei riferirlo di fare questi scherzi eh ma il maligno io sei uno stronzo se no uno stronzo ecco è pronta ho cambiato le puntine pulito il carburatore adesso puoi andare beh quello lì cos'è? è un telefonino che mi hanno regalato per Natale ah si? bello eh ma non sarà mica lui quello che fa gli scherzi ecco ecco io? si? ma se non so usarlo eppure sentai sentai che vuoi che sia ma non so usarlo lo dici te che non so usarlo non sei credibile dai stiamo porno giusto non sei credibile? è impossibile hai visto che è diventato rossa è lui è lui è lui è lui sei te sono sicuro sei te sono sicuro me lo dici se lo tieni in testa qualcuno ammazzi a varie mandate questi prigionieri furono spinti dentro le camere a gas completamente nudi vennero sistemati i sali dentro il tubo l'estremità del tubo venne regolarmente chiusa con un tappo chi è? beh? cosa mi hai portato? vieni avanti vieni beh essio ma mi hai regalato un telefonino mi piace adesso lo vedete ma che bellino guarda come è bellino essio non dovevi fare queste cose però eh non dovevi disturbarti così non so mica l'operale o io non ti preoccupare te lo insegno io è facilissimo vabbè dopo poi ti posso chiamare te ma certo anzi dobbiamo telefonare e allora ti ringrazio così facciamo quelle belle parlatine un po' scomplice oh dai io andro dai che ti piace che te no nanna dove è il mio telefono dove l'hai messo? Cosa vuoi che sappia io dov'è il tuo cellulare, dove l'ho messo io? Dov'era? Nel comodino, era lì su. Allora ci sarà ancora se non l'hai spostato, ti sembra? L'hai non sposto tu, eh? Allora? Lo sai perché l'ho fatto? L'ho fatto perché, guardami, ti stai inscimonendo con questo coso e io non voglio. Vieni che andiamo a fare un giro! Che fai? Adesso esco dal cesso e poi andiamo a vedere la nonna cosa fa. Eccola! Quando ci facciamo un video! Che? Fuori di qualcosa! Che ci stiamo giocando completamente il nonno! E' totalmente fuso! Aspetta, 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 aspetta! Stai lì, stai lì, stai lì, stai lì! Opla! Fermo lì, mi ferma! Stai lì, fermo! Basta che è! Basta, basta! Basta, dai, non sarà che... Che bel giochino! Oh, che bel cellulare! Fammi vedere che ti stagli un giochino. Adesso ci puoi giocare tutte le volte che vuoi. Nonno, sta diventando peggio di me. Nonno, sta diventando peggio di me. Nonno, sta diventando peggio di me. Sì, stai! Lola, sit down! Ciao, guarda, mi è caduto il tablet e si è fatto una riga qui, guarda, c'è una riga qua? Sì, non vedo mica niente, dove? Fammi vedere per bene? Ma così, c'è qui poi, guarda, sì, io non vedo niente, allora, e la riga dov'è che la vede? Ah, qui, è questa, e penso a dire qualcosa che faccia bene per lei, aspetta un secondo, guarda, questa è la cover per il tablet, che è fatta apposta, perché in questo modo qui lo lasci qua dentro, quindi se ti scivola dalle mani, così lo proteggi e non si fa niente, ti piace, è bella? Ciao, Bibi, ti sei fatto la cover nuova? Don't touch me, I don't touch, guarda che non te lo tocca mica Pronto? Scemo! 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 Questa non si progetti qui sei. Oh, guardi a qui questo, c'è un coach proprio qui. Chi va a dire, non ti ho sentito. Buon tutto ciasco! Non è che ti fai prendere la mano da questo coso qui? Non, non, io non! Voi ci si... ... 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